SatisPay è un'applicazione usabile da chiunque abbia un conto corrente e uno smartphone per inviare e ricevere denaro dalle persone verso le persone della propria rubrica telefonica e pagare presso gli esercenti convenzionati. È un vero e proprio sistema di pagamento indipendente dalle carte di credito, dalle carte di debito, operatori telefonici e banche. Questo consente appunto di poter essere usato da tutti e di abbattere i costi. SatisPay nasce con l'idea di innovare l'ambito dei pagamenti. Ci siamo infatti slegati da quelli che sono i normali circuiti dei pagamenti, quindi le carte di credito, le carte di debito. Abbiamo sfruttato ciò che ci è stato messo a disposizione con l'avvento della SEPA, che è la romanizzazione del sistema di pagamento in 34 paesi in ambito europeo. Sfruttando questa novità che è attiva dal 1 febbraio 2014, abbiamo creato un circuito di pagamento totalmente nuovo e indipendente. disintermediando quindi le carte di credito è una struttura che si è evoluta in 50 anni, in quanto la prima carta di credito è nata nel 1950, dove ormai troppi attori partecipavano, troppi attori che hanno un costo e un'inefficienza e quindi portano i circuiti delle carte a non essere più adatti nel 2014 e adatti ad essere utilizzati in maniera smart attraverso uno smartphone o comunque con le tecnologie moderne. Sfruttando quindi questa nuova possibilità che ci è stata offerta dalla SEPA e le possibilità messe a disposizione dalla tecnologia, dagli smartphone, del giorno d'oggi abbiamo creato questa applicazione mobile che ci permette di aprire un portafoglio prepagato a un utente senza dover richiedere alcuno sforzo di tipo extra rispetto a una normale sign up da mobile. L'utente quindi si iscrive scaricando l'applicazione Satispay scaricata dall'App Store, inserisce i propri dati e a seguito di una verifica dei dati da parte nostra attiviamo questo portafoglio elettronico che permette all'utente di scambiare denaro con altri utenti che hanno Satispay o pagare degli esercenti stati convenzionati. Lo scambio di denaro tra utenti Satispay è uno scambio totalmente gratuito, questo ci è permesso grazie all'efficienza che abbiamo portato con questo nuovo circuito di pagamento. Lo scambio di denaro, il pagamento nei confronti degli esercenti è disruptive anche rispetto a quelle che sono le attuali commissioni che vengono applicate dalle carte agli esercenti in quanto l'esercenti non paga alcuna commissione per gli incassi al di sotto di 10 euro e paga una commissione fissa di 20 centesimi per qualsiasi transazione superiore ai 10 euro. Da un punto di vista della sicurezza abbiamo lavorato moltissimo, è uno degli ambiti su cui abbiamo cercato di portare innovazione anche rispetto a ciò che offrono le carte di credito perché sicurezza, maggiore sicurezza vuol dire abbattere le commissioni che è uno dei nostri focus principali. Per cui quello che abbiamo creato è un'applicazione mobile che non è una semplice applicazione ma è un elemento che autorizza le transazioni per cui il tuo telefono diventa l'elemento fisico che abbinato al tuo pin permette di autorizzare le transazioni che sono garantite. Quello che poi l'utente finale vede è semplicemente un'applicazione mobile dove la sua rubrica è sincronizzata con i contatti anche iscritti al sistema Satispay paragonabile a ciò che avviene con WhatsApp. Se il suo contatto è selezionabile può selezionarlo digitare l'importo e all'utente viene automaticamente accreditata la somma inviata. La transazione è istantanea e a livello settimanale viene accreditata sul suo conto corrente bancario se non è utilizzata. Un'esperienza d'uso simile è anche negli esercenti dove aprendo l'applicazione vengono elencati gli esercenti nelle vicinanze, viene selezionato esercente e digitato l'importo. In questo caso l'esercente deve accettare la transazione e istantaneamente è data la conferma di entrambi.